Operazione Vento Rosso, coordinata dalla Procura della Repubblica di Larino con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Campobasso e la Compagnia Frentana, assieme ai colleghi dei militari dell'arma di Foggia e della provincia Batta. Sono state eseguite sette misure cautelari, altre quattro in corso di esecuzione su un totale di 18 indagati per i furti di rame all'interno dei parchi eolici di quattro regioni, indagini avviate dopo i colpi compiuti a Ururi e San Martino in Pensilis. Un'attività capillare iniziata con un sopralluogo fatto molto bene da parte delle Forze dell'Ordine, continuato con una serie di attività anche di natura tecnica importanti che hanno portato a circoscrivere questa associazione a delinquere per la quale è stata poi data misura cautelare da parte del GIP che è stata eseguita questa notte. Il danno è notevole perché non è solo il danno da furto del rame che è l'elemento principale sul quale si basa la trasmissione dell'energia elettrica, ma è un danno all'intera economia verde, l'economia green, perché l'attacco a una palla eolica, a un parco eolico evidentemente è un attacco alla produzione dell'energia e quindi delle energie alternative. Cerchiamo sempre di incrementare i posti di blocco e i posti di controllo, fermiamo le macchine sospette, ma fondamentale è anche un'altra cosa, le segnalazioni da parte di cittadini. C'è in campagna, c'è la macchina sospetta che non si è mai vista, una chiamata al 112 anonima che allerta le forze di polizia, noi ci siamo sul territorio.